Greta e Life sono tornate in mare. Le giovanissime tartarughe caretta caretta, curate e riabilitate presso il centro ricerche tartarughe marine della stazione zoologica di Napoli, sono tornate a nuotare libere nelle acque antistanti il parco Riviera di Ulissia Gaeta che, in quanto nucleo operativo della rete Rartalazio, ha coordinato l'intervento. I tecnici dei due enti hanno ritenuto opportuno che il rilascio in natura dei due esemplari così giovani non avvenisse in spiaggia ma già in mare aperto. È una cosa emozionante e speriamo che dalle immagini che siamo riusciti a riprendere questa emozione venga trasmessa anche alle persone che sono a casa perché insomma era impossibile sia per le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 sia anche per garantire a questi due giovani, giovanissime tartarughe, di rientrare in mare in condizioni ideali quindi direttamente dal mare aperto è stato indispensabile fare questa liberazione dall'imbarcazione e non dalla spiaggia come spesso facciamo. Queste sono le cose più belle perché poi molte volte ci capita di prenderle purtroppo che sono come qualche settimana fa sulla spiaggia di Sperlonga, purtroppo quando arriviamo tardi che ormai sono spiaggiate non possiamo farci più niente. Questa è una grande emozione e vederle tornare nel loro blu, hai avuto anche tu la possibilità di guardare quel mare che è di un colore spettacolare e rivederle di nuovo nel loro ambiente. Fra il recupero, la cura e la riabilitazione delle tartarughe sono trascorsi diversi mesi. Nel caso specifico di Greta, arrivata a settembre proprio dalle acque del Golfo di Gaeta ha avuto una ripresa anche abbastanza rapida se consideriamo che ha subito un intervento chirurgico per l'asportazione di un amo esofageo. Alive che era arrivata invece a dicembre sembrava in cattive condizioni all'arrivo molto debilitata trasportata dalle correnti di una forte mareggiata sulle coste di Freggene e ha impiegato qualche tempo in più nella fase iniziale a riprendersi però poi è arrivata a questi giorni veramente pronta carica per tornare a mare. A salvare Greta in particolare è stato l'intervento di un privato cittadino, Giuseppe Locci che ha avuto il piacere di liberare materialmente la tartaruga insieme alla presidente del parco, Carmela Cassetta. È stato emozionante, emozionante perché ecco, l'emozione di salvare uno di questi animali che comunque sappiamo sono abbastanza rari e rivederla portare così una nuova vita, una speranza di questo animale è un po' un simbolo di speranza.